La dolce dichiarazione del principe William riguardo a suo fratello durante uno dei loro tour congiunti è stata riaffiorata dai commentatori reali che hanno notato come la relazione fosse cambiata. Il tour reale in Africa del 2010 del principe William e del principe Harry ha fornito un'istantanea perfetta del loro stretto legame passato. Il giovane duca di Cambridge e il duca di Sussex avevano intrapreso il loro primo viaggio all'estero congiunto nell'estate di quell'anno per visitare enti di beneficenza che sostenevano nella parte meridionale del continente. I conduttori del podcast Royale Obsessed Rachel Bowie e Roberta Fiorito hanno fornito un'idea di ciò che ne è uscito. La signora Bowie ha detto agli ascoltatori. William ha detto in seguito che uno dei momenti più commoventi di questo tour in Africa con suo fratello è stato vedere il lavoro di Harry con Sentebale. Deve essere stato così dolce e commovente poterlo vedere di persona per entrambi. Davvero. Harry ha visto William interagire con il Tusk Trust. Sembra difficile ora sapere quello che sappiamo. La signora Fiorito ha aggiunto. È interessante visualizzare dove erano undici anni fa. William stava per sposare Kate si sono fidanzati quattro mesi dopo. In realtà questo sembra un po' un viaggio da scapolo. L'ultimo è viva. Probabilmente ne hanno parlato. Il duca di Cambridge ha reso omaggio a suo fratello per aver creato Sentebale durante il loro tour. Harry ha istituito l'organizzazione di beneficenza con il principe si iso dell'esoto in memoria della loro madre, Diana, principessa del Galles. William ha detto che guardare il giovane duca del Sussex dare un caloroso benvenuto ai ragazzi del gregge in lesoto è stato uno dei momenti più commoventi del viaggio. Il rapporto tra i due reali ora si dice che sia teso. I suggerimenti di una spaccatura sono stati diffusi per anni. Harry è apparso per confermarli durante la sua candida intervista del 2019 con i TV. Dello, spazio, tra lui e il fratello ha parlato anche il duca di Sussex durante la sua intervista con Oprah Winfrey. Entrambe le volte ha sottolineato il suo amore per William e la convinzione che si sarebbero riconciliati.